Ciao a tutti, sono Sara Barone e nel video di oggi vi spiegherò la differenza fra tre sillabe Vediamo la prima Avete visto che il suono di G è un suono dolce Ma se noi aggiungiamo l'h tra la g e la e diventa un suono duro e si pronuncia come ghe Ghe, ad esempio Margherita, traghetto, traghetto, ghepardo, ghepardo Osserviamo che le parole Margherita e ghepardo si pronunciano uguale sia in portoghese sia in italiano Ma si scrivono in maniera diversa In italiano con la g h e In portoghese con la g u e E ora vi starete chiedendo Sara, ma come posso pronunciare la g u e in italiano? Si pronuncia così Ad esempio E ora tocca a voi Mi dovete scrivere qui nei commenti tre parole che ora vi pronuncerò Che hanno la sillaba Ghe, ghe e gue Prima parola è Gesti Gesti Seconda Spaghetti Spaghetti Terza Guerriero Guerriero Ok? Scrivetemi queste parole qui nei commenti E lasciate il vostro like se vi è piaciuto il video Ci vediamo alla prossima lezione Ciao ciao!